C'era una volta un ragazzo povero che non aveva da mangiare. Un giorno seppe di un bel paese dell'abbondanza, dove tutti ballavano, sorridevano e festeggiavano. Allora pagò un pescatore e con la sua barchetta attraversò il mare per raggiungerlo. Lì lo accolsero, gli vollero bene, e lui si arricchì raccogliendo poni d'oro. Per chi è stanco di farsela raccontare, nasce E il nuovo mensile di emergency diretto da Gianni Mura e Maso Notarianni, in edicola dal 6 aprile.